imprese in piazza gigante 1,2,3 è impossibile, si arrende anche il gigante 1,98m, non ce la fa vediamo l'impresa di Giulio Freda e l'energeti un primo uso eravamo riusciti riprova, riprova, riprova riprova, riprova con l'onda energetica no, riprova, non l'ho sciogliato non l'ho sciogliato, riprova stava là quello, l'abbiamo spostato fino a qui era lì, vediamo è stato spostato fino a qui guardate la potenza di Giulio no, secondo me lo sai che me fa non l'ho mai spingere, lo dobbiamo girare l'idea di Marco ecco il cervello grazie applausi applausi ecco il lampazzone ha detto tutto il web tutto il web, ci osserverò ci osserverò ma lui ma questo secondo me è fissato è fissato ecco i scoppati della piazza Paolo Aiannace e Mauro Zollo chi più scoppati di loro ma ritorniamo all'impresa e va ooooo non l'hai sciogliato non l'hai sciogliato ma tu credi vai ecco ce lo potrebbero fare eeeh è l'impresa riuscita possiamo concludere qui questa serata in piazza arrivederci a tutti e alla prossima puntata ecco il più alto